ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati dal vostro g90 gamer oggi siamo qui con farming simulator 17 perché ho scaricato due nuove mod e volevo farvele vedere innanzitutto partiamo dalla prima è una new onland al 59 quasi tipo come la fiat agri autolivellante 3550 è la stessa forma fa anche il suo dovere ve la faccio vedere guardate iniziamo subito con il farvi vedere la parte sottostante insomma della livellatura eccetera eccetera andiamo su una parte più o meno non so un pochettino arrampicata diciamo così arrampicata vi faccio vedere come funziona ovviamente già sapete com'è che funziona non sono io a dirvi come funziona e come non funziona e quant'altro andiamo avanti e andiamo a vedere qui mi sa che ci dovrebbe essere una parte un pochettino eccola qua doveva 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 torni indietro tornami indietro torna indietro eccola qua ore e questa qui signori è la nuova new onland al 59 guardate un po quant'è bellina quant'è carina si è la stessa identica cosa della fiat 3550 autolivellante l'ho trovata l'ho messa su farming 17 è ovviamente vi lascerò qui sotto qui in descrizione il link se magari qualcuno se la vuole scaricare in modo gratuito e in modo gratuito e ve la potete installare sul vostro farming 17 guardate un po è una cosa veramente molto molto grandiosa finalmente sono riuscito a trovare una nuova mod di una mietitrebbia autolivellante e ho detto ma si dai portiamoci anche il video però ho scaricato anche un'altra mod eccola qui questa qui invece è una new onland tc 59 è quasi semi autolivellante riguardo a questa new onland tc 59 non so che cosa stia accadendo ma va benissimo anche così è una idro plus ed in effetti abbiamo la parte posteriore che è gommata mentre la parte anteriore è cingolata dunque sono andato a mettergli una lama un pochettino troppo lunga soltanto che abbiamo un piccolo problemino ovvero nella parte anteriore dov'è che ci sta la lama non va a piegarsi ovvero ad abbassarsi fino al livello del terreno vi faccio vedere com'è che funziona è come detto quasi semi autolivellante vedete la parte posteriore com'è che si vede che fa un attimino un pochettino la la birichina ecco diciamo così birichina soltanto che di questo tipo di mietitrebbia abbiamo come potete ben notare i pad 4 possiamo aprire vedete il lato qui con il numero 4 mentre con il numero 7 possiamo andare ad aprire la parte di sopra dove che ci sta credo le ventole eccetera eccetera con il numero 8 possiamo andare ad aprire e chiudere la porta all'occorrenza abbiamo un pochettino di gadget diciamo così di gadget mentre nella parte interna purtroppo non ci sta assolutamente niente la parte interna è soltanto normalissima come una mietitrebbia normalissima facciamola mettere in combinazione ed eccola qua ora vi faccio vedere quello che intendo io ovvero che la lama purtroppo non si abbassa a terra dunque abbassa qua ecco vedete rimane sollevata quindi non va a portarsi direttamente a terra accendi però comunque sia funziona lo stesso guardate un po funziona lo stesso io gli metto anche l'operaio ed eccola qua questa qui funziona la stessa maniera soltanto che purtroppo non tocca la lama per terra ma anche alla new orland al 519 e poi non ho capito scusate al 519 qua e al 59 vabbè non ho capito signori che cavolo di problema che ci sia però non so andiamo avanti che vi faccio vedere subito quello che voglio farvi vedere ecco qua autolivellante carina molto molto carina devo dire eh sì in effetti e qui con una determinata mietitrebbia del genere vi potete anche sbizzarrire su dei terreni un po scoscesi o magari anche un po più alti pianeggianti a discesa in salita insomma potete fare quello che volete dunque andiamo un attimino sotto qui che vi faccio vedere anche qui la stessa identica cosa come l'altra lama purtroppo come detto non arriva a terra ecco qui fermati qua accendi e vai però comunque sia vedete non tocca a terra ma allo stesso tempo raccoglie comunque vedete che a raccogliere mi raccoglie lo stesso mettiamoci l'operaio riprendiamo di nuovo a trebbiare qui mi si è chiuso il gioco non ho capito il perché forse magari ci sarà qualche piccolo problema con le mod andrò a risolverlo in maniera costante questo determinato tipo di problema e tra l'altro ho scaricato anche direttamente da sul mod ab di gioco il tablet non l'ho ancora usato devo devo esservi sincero non l'ho ancora usato andremo ad usarlo proprio adesso vediamo un attimino com'è che si usa perché non lo so non ho capito com'è che si usa il tablet forse magari no vabbè ad acquistarlo no non mi sembra il caso di acquistarlo perché di sicuro non ce n'è poi tranne se è veramente qua dentro agli oggetti no vabbè oggetti posizionabili no è quasi una cosa impossibile eccolo qua farming tablet lo ha di cosa io pensavo che fosse il tablet da mettere direttamente in mano ovvero da tenere direttamente in mano invece questo qua si mette direttamente qua vicino casa dov'è che lo vada a piazzare mosto io casa nostra è direttamente qui io direi quasi quasi di lasciarlo direttamente qua vicino casa vediamo un attimino giralo giralo girò un altro pochino e cerchiamo quantomeno di posizionarlo dai solo possiamo posizionare anche direttamente qua su e andiamo a vedere anche un un attimino com'è che funziona questo tablet eccolo qua ottimo andiamo a vedere perché se non vado errato mi sa che questa qui è piena mentre lì dobbiamo andare a scaricare tutta quanta la roba andiamo a vedere un attimino di che cos'è che si tratta questo tablet sono molto molto curioso di scoprirlo di sapere un attimino che cos'è ma forse volete vedere che sarà un rifornimento di carburante per i nostri mezzi perché vedo in tal caso sulla mappa il simbolo di rifornimento e sì in effetti sì fatemi vedere il modo di entrare no tech farm oddio però l'erba che compenetra malissimo oddio però di sicuro ci dovrebbe essere un qualche cosa che mi dice apri la porta eccolo con il tasto destro del ma oddio sì non ci fate caso devo fare un attimino di pulizie interagisci con il tablet docking station e vabbè quindi a me lo sono preso il tablet inserisci il tablet nella docking station forse magari per farlo ricaricare però per usarlo direttamente così io non posso usarlo direttamente così però com'è che si usa e scusi giovane è com'è che faccio ad usarlo io questo cacchio di tablet qui sapete che non lo so com'è che si usa il tablet oddio aspettate perché ci abbiamo pure una luce molto molto carina devo dire molto molto spaziosa anche si compenetra un attimino con l'erbicida ma non fa niente non ci preoccupiamo vendita il veicolo si scende un attimino dal veicolo aspetta vieni qua questo qui sapete che cosa ragazzi andiamo a svuotarlo a noi direttamente qui vicino al silos perché poi dopo di qua silos andremo a vendere completamente tutto io ora cercherò quanto meno oddio aspetta troppo lunga la lama eh sì è troppo lunga la lama troppo lunga oddio troppo lunga no perché non siamo posizionati correttamente ora credo forse sì fatemi vedere se mi scarica sì ok perfetto scaricare mi scarica sì è anche abbastanza carina questa determinata new orland tc 59 idro plus sarei aspettato qualche cosa in più sono onesto però comunque sia sapete com'è no una determinata miti trebbia del genere per me fa sempre comodo e specialmente fa comodo colori audio ribellante a sempre sempre comodo ecco qui chiudi qua e ritorniamo di nuovo a trebbiare questo buco di grano oddio aspetta vai così vai 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 così vai così questo qua adesso lo facciamo noi in ogni caso l'altra trebbia deve ancora finire di trebbiare ovvero non è ancora carica del tutto al 100 per cento una volta che sarà carica al 100 per cento andremo anche a svuotarla non vi preoccupate perché io in tal caso sapete che cosa ragazzi quando io trovo qualche cosa di molto molto interessante per farming 17 o farming 19 insomma qualsiasi tipo di mod che io trovo o per questo o per l'altro io comunque sia per la porto anche come vi ho portato sempre la mod di farming 17 della e non mi ricordo nemmeno io che cavolo di mod vi avevo portato mi sa che doveva essere la rostelmash autolivellante se non vado errato se non vado errato ed in effetti quello lì è anche piaciuto un bel po e dato che ho trovato queste due nuove mod ho detto ma sì dai ci provo le porto vediamo un po com'è che andrà a finire questo video che si andrà a finire anche abbastanza bene io continuerò farming ovvero continuerò a portarvi delle nuove mod quando non appena troverò delle altre mod molto molto più carine questo l'intendo è ole si anche che ne lasciamo un pochettino non fa niente voglio dire abbiamo un silos pieno vai così vai così però ripetisco il tablet non ho ancora ben capito com'è che si usa questo purtroppo no devo semplicemente scoprire com'è che si potrebbe usare questo determinato tablet e non so nemmeno che cos'è che si potrebbe fare con questo tablet se magari posso acquistare macchinari terreni fare manutenzione ai terreni e quant'altro chi più ne ha più ne mette insomma acquistare semi eccetera eccetera vediamo un attimino com'è che funziona una volta finito di fare qui andiamo a vedere anche un attimino dove che è arrivata l'altra trebbia perché la dobbiamo andare a scaricare assolutamente questa qui è quasi piena all'ottanta per cento 81 sì beh con un pochettino abbiamo abbiamo quasi riempito la trebbia 80 82 82 ci sta bene ci sta bene andiamo a vedere l'altra invece quasi piena quasi piena facciamo così dato che io qua ho la colza perché stavo raccogliendo la colza per poter provare la new holland l'autolivellante questo qui per adesso io lo lascio direttamente qua perché non ho nessun tipo di problema a lasciarlo qui ed in effetti possiamo andare a vendere ovvero a vendere a lasciare questo qui facciamo così aspetta abbassa dispiega almeno così cercherò quantomeno di toglierla di e che così è troppo lunga ed in effetti dentro il pacchetto delle trebbie aspettate perché non mi ricordo garage negozio eccole qua lame insieme alla new holland ci sta anche la lama 19 pes questa qui che dovrebbe essere da quanto da 4,2 metri che la sta utilizzando la new holland autolivellante infatti gliela lascio a lei e devo cercare quantomeno di metterla anche qui perché quella lì sono onesto è troppo lunga se devi andare in giro non puoi nemmeno andare tantissimo in giro con quella determinata lama che è troppo troppo lunga però ribadisco che la parte anteriore cacchio la potevano fare pure un atto un pochino un po più bassa vabbè comunque sia non non ho fatto io le mod non sono io che ho progettato se io ho capito non c'è bisogno che mi dici le spiegazioni di farming giovane le conosco tutte quante a memoria che fai scarichi giovane e vedi che sei sopra qua però giovane e che famo e dai e forza non scherziamo su che fai non scarichi perché ma non scarichi c'è quel quadro che non cosa perché non mi scarica adesso per quale logico motivo oh e dai però su non mi devi far arrabbiare così no scusa perché non mi scarica adesso c'è quel quadro che non cosa non mi dire che ha bisogno per forza della lama questa qui per poter scaricare ma non credo oh ragazzi ecco là a posto mi ci sono incastrato oddio oh marone aspetta 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 non vorrei che si sia buggato e se si è buggato mi arrabbio mi arrabbio veramente tantissimo eh vai qua vai qua vai qua vai così signori questa qua non mi scarica e non ho capito perché non mi vuole scaricare aspettate ma non è che forse magari scarica qui left ct rl scusa prima mi posso il condotto sul rimorchio ma perché lo devo spostare sul rimorchio scusami è certo che oh ragazzi ogni tanto io sto cavolo di gioco però non tanto lo capisco però eh e che due maronzoli che due maronzoli scusi signora eh lo so ha ragione scusi eh lo so ha ragione un attimino ecco qui perfetto ottimo dunque ragazzi allora io ho arrivato a questo punto dire quasi quasi di completare qui questo nuovo appuntamento della serie di farming simulator 19 vi ho presentato queste due mod molto molto carine devo dire che a me piacciono veramente tantissimo specialmente questa qui la new holland al 519 auto rivellante vi ricordo che potete trovare il link qui sotto qui in descrizione se magari qualcuno di voi se la vuole scaricare in tutta tranquillità ribadisco è una mod libera lo potete scaricare come quando volete ed inseritela sul vostro gioco fatto questo mettetevi e trabbiate tutto quello che volete detto questo vi saluto vi ringrazio per aver guardato questo video fino alla fine vi ricordo che tra qualche giorno uscirà il nuovo video di trader life simulator aggiornata la versione 2.2 mi raccomando per questo video se volete lasciate qualche like commentate iscrivetevi attivate la campanellina condividete questo video per poter aiutare il canale a crescere e noi ci si becca molto presto in un nuovo video ciao 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 ciao